La fondazione Made in Cloister ha presentato l'opera site specific La Casa di Wendy dell'artista Gabriella Siciliano in mostra presso lo spazio laboratorio a partire da sabato scorso. Uno straordinario progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea. A differenza di un approccio tradizionale di tipo white cube, l'artista ha voluto vivere e analizzare i capitelli rinascimentali, le catene industriali e le porte murate che testimoniano una storia complessa di laboratorio. Il risultato è un'opera che si pone in simbiosi con lo spazio. È una mostra che parla di solitudine, è una creatura che nasce dall'unione di tutti quegli stati d'animo che mettiamo da parte e che non accettiamo, di tutti quei sentimenti che non esprimiamo. Questa condizione porta appunto a un senso di abbandono, infatti questa creatura non riesce a trovare il suo posto nel mondo. È un mostro che non vive più sotto il letto ma ci dorme sopra, per cui si rivela a noi ma allo stesso tempo noi non sappiamo come trattarlo, non sappiamo cosa farcene. Una creatura che dovrebbe eseguire un compito di distruttore, dovrebbe far paura, in realtà viene invaso nella sua intimità, per cui si crea questo contrasto tra la figura e il ruolo che dovrebbe interpretare e quello che invece sta facendo, perché fondamentalmente è steso in un letto, quindi in una posizione di riposo all'interno della sua stanza. La casa di Wendy in particolare si inserisce in questa esplorazione, invitando il pubblico a confrontarsi con la propria condizione emotiva. Eleonora Di Blasio, della fondazione Made in Closister, ai nostri microfoni, afferma. Il collegamento è chiaramente quello del site specific, quindi di installazioni ambientali. Tutto quello che facciamo nei nostri spazi sono tutte opere che sono nate e cresciute all'interno degli spazi nell'ottica di valorizzarne il recupero.